Siamo molto preoccupati del silenzio del governo, sembra di capire che non c'è più nessuna interlocuzione tra il governo e le parti coinvolte, ma siamo anche molto amareggiati del fatto che il Presidente del Consiglio non abbia avuto modo di raccogliere il pressante invito, accorato invito mio e nostro di avere un incontro, perché noi non possiamo considerare ineluttabile la data del 31 ottobre per la fine lavorativa di queste persone. È una cosa sinceramente inaccettabile per come questa cosa è nata, con un accordo stracciato da parte della Whirlpool, per come alcuni esponenti di questo governo, nella maggioranza, in quel caso 5 Stelle Liga, avevano rassicurato completamente ai lavoratori che la vertenza si sarebbe conclusa positivamente. Se c'è ancora un'attenzione forte, solo perché questa città non ha mollato, perché la Whirlpool di Napoli non ha mollato, i lavoratori e lavoratrici non hanno mollato, però questo silenzio che prelude ad atteggiamenti pilateschi da parte del governo ci preoccupa molto. Quindi oggi è un incontro per mantenere altissima l'attenzione, rinnovare tutti, tutta la città attraverso il Sindaco che la rappresenta, l'invito a un incontro col Presidente del Consiglio e poi verranno fuori, visto gli esperti presenti, anche le proposte. Questa è una città che propone, protesta e propone, difende i diritti e li promuove. Quello che è inaccettabile è che la terza città d'Italia non venga ascoltata su questa vertenza, che si è caricata all'intera città. Abbiamo diritto a comprendere che cosa sta accadendo perché riteniamo che ci siano margini ancora per una soluzione positiva, perché qui non ci troviamo di fronte al fallimento di un'azienda, ci troviamo di fronte a una scelta ritenuta arbitraria, visto l'accordo che era stato firmato in ottobre 2018, di chiudere Napoli e andare in altre parti del globo. Siccome c'era un accordo firmato, ci sono impegni presi e questa multinazionale opera in Italia, noi dobbiamo capire se in Italia conta più una multinazionale o il governo della Repubblica italiana e i diritti dei lavoratori, e quindi l'articolo 1 della Costituzione. Questo è il punto. E poi il 31 ottobre per chiudere sciopero generale metropolitano indetto dai sindacati, al quale aderiamo come presenza fisica, come adesione formale al Comune e con la presenza del gonfalone. E ho invitato anche gli altri sindaci della città metropolitana a unirsi insieme a noi in questa grande mobilitazione.